La chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Canosa di Puglia ha ospitato un incontro dedicato alla funzione socioeducativa degli oratori. In una diocesi come quella di Andria, attiva e presente sul territorio a sostegno della socializzazione e dell'aggregazione. Ascoltiamo le interviste di Francesco Rossi. Io sono, si vede dalla mia età, uno che ha avuto la fortuna di vivere l'esperienza dell'oratorio. Ecco perché oggi mi sento impegnato, diciamo così, anche con uno spirito nuovo evidente, a dare e a ridare la giusta dimensione a questi spazi. Una funzione socioeducativa che può essere benissimo svolta in concorso con le altre istituzioni pubbliche. E noi che vogliamo favorire l'integrazione sociale e sociosanitaria con l'aiuto di tante forze, quelle pubbliche e quelle private, in questo insieme di forze mettiamo l'oratorio. Cosa può fare la Regione per favorire gli oratori concretamente? Beh, quello che stiamo facendo già in questi giorni è possibile partecipare ai bandi di infrastrutturazione sociale e sociosanitaria. Quindi attraverso i fondi comunitari poter realizzare queste strutture, che siano strutture di accoglienza, di socialità, di integrazione, di scambio culturale, di comprensione delle difficoltà altrui, perché noi pensiamo che con questi centri, con questi spazi possiamo migliorare la qualità della nostra vita. Abbiamo colto con grande entusiasmo e soddisfazione il fatto che seppur a distanza di tanto tempo ci sia questa volontà con la Giunta regionale di ritagliare un ruolo ben preciso agli oratori, tra l'altro riconoscendoli con legge e quindi l'occasione è stasera in questa prima uscita con l'assessore poter illustrare il territorio anche per recepire le eventuali istanze, perché adesso l'iter legislativo prevederà il passaggio nelle diverse commissioni per poi approdare in consiglio. Ragione per cui questi tipi di incontri si rendono necessari perché oltre a quello che è il lavoro che svolge un assessore che svolge diverse commissioni, sapere chi poi le vive queste realtà, quali possono essere eventuali esigenze, e perché no anche delle proposte, è l'occasione migliore per essere dei politici da strada come tu sai a me piace essere. Tenere lontani i ragazzi, i giovanissimi, dalle difficoltà della strada indubbiamente può essere una sfida decisiva. Qualcuno oggi può mettere in dubbio la valenza ancora oggi degli oratori, non è solo una questione generazionale per chi è cresciuto negli oratori, ma oggi se siamo attenti sono le uniche associazioni educative concrete che esistono sui territori. Fermo restando tutti gli altri che sono specifici, ma l'oratore è una sorta di famiglia allargata, che non chiede mai niente, ma che vede coinvolte l'intera famiglia molto spesso e che è a fianco veramente di chi più in difficoltà. Bisogna rilanciare perché negli ultimi anni forse sono stati un po' troppo ideologizzati e messi un tantino da parte.